Commenta e fragola cosa si può fare con questi due ingredienti messi insieme, un cocktail estivo, andiamo! Prima di iniziare il video ragazzi vi ricordo a tutti di bere Balcanico Gin, di andare nel vostro bar di fiducia e di chiederlo perché prima o poi quel proprietario una bottiglia lo comprerà per provarlo e una volta assaggiato non vi staccherete più perché Balcanico Gin è meraviglioso andiamo subito nel nostro cocktail molto estivo perché andremo a preparare un Jamaica Mojito andiamo subito con il primo ingrediente, due cucchiai di zucchero bianco di canna e andiamo a versare 20 ml di succo di lime fresco, spremuto e vi ricordo sempre di non spremere, non pestare lime perché lascia delle cose amare e ora andiamo a sciogliere i nostri ingredienti così vediamo subito il bilanciamento del nostro drink e assaggiamo io direi che è perfetto ora andiamo subito con la nostra menta andiamo a prendere 6-7 foglie di menta in abbondanza ragazzi perché la menta è importante battiamolo, che profumo! e poi andiamo a fare dei pezzettini di fragola guardate e ora con il nostro rum andiamo a versare 45 ml riempiamolo pieno di ghiaccio fin qua sembra quasi un mojito normale ma ci serve un estratto fresco di ananas andiamo a completarlo 12 ml e ora andiamo a miscellare tutto tutti gli ingredienti che sono sotto portiamoli su lo vedete? i pezzettini di fragola che sono dentro al nostro drink danno un tocco di magia un tocco anche estetico molto bello ora andiamo a completarlo perché andiamo a riempirlo pieno di ghiaccio e andiamo alla nostra decorazione con questa bella menta andiamo a trovare un ciuffo come questo battiamolo sulle mani e andiamo su decorazione guardate ragazzi non c'è bisogno di tante parole ma soltanto di un mojito così e ricordate che anche Balcanico Gin ti fa passare un'estate meravigliosa Balcanico Gin vi saluta e ci vediamo nel prossimo video fatemi sapere qui sotto nei commenti se il drink vi è piaciuto e raga cc grazie a tutti grazie a tutti